Ciao ragazzi, come ogni mese, da un po' di tempo a questa parte, e come avrete visto dal titolo, oggi ho deciso di parlarvi del nuovo Tex Wheeler, eccolo qua, l'ultimo uscito, l'ho letto, quindi adesso posso parlarvene un po' meglio, intanto come sempre vediamo la copertina bellissima, stupenda, veramente sono spettacolari queste copertine, non smetterò mai di dirlo, qua troviamo poi dietro l'anticipazione, ma dopo ve la faccio vedere meglio nel prossimo numero, siamo arrivati al numero 24, quindi sono esattamente due anni che sta uscendo questo fumetto, e niente, andiamo a vedere un po' di chi è la storia, e poi vi dico brevemente la trama, perché anche se tratta di un qualcosa che, tra virgolette, già si conosce, per chi conosce comunque Tex, per chi legge da tempo Tex, sa già come andrà a finire questa vicenda, mettiamola così, però visto che magari c'è gente che ancora non l'ha mai letto, non lo conosce, non voglio rischiare di spoilerare niente, quindi la trama vi dico che la dirò proprio brevemente, vi dirò più magari i miei pareri, cose del genere, ma andiamo a vedere intanto di chi è questa storia. Allora abbiamo soggetto e sceneggiatura di Mauro Boselli, i disegni di Bruno Brindisi, la copertina, come sempre, di Maurizio Dotti e il lettering di Luca Corda. Allora, vi faccio vedere anche l'interno con il titolo, ecco qua. Allora, questa storia, secondo me, è un buon punto anche di inizio, se vogliamo, per chi non avesse letto appunto magari My Tex, oppure non avesse ancora iniziato a leggere questa testata. Intanto perché è una storia nuova, nel senso che non è già iniziata in altri albi, quindi l'avevo già detto nel video precedente, avevo detto che se qualcuno voleva magari provare a leggere Tex Wheeler, secondo me questa sarebbe stata l'uscita adatta. E poi perché? Perché comunque parla del passato di Tex, quindi dice qualcosa di veramente importante della vita di Tex, fa vedere delle parti veramente importanti della sua vita. e quindi secondo me iniziare anche da questo per vedere un po' se a uno può piacere, magari uno che non ha mai letto Tex può iniziare da questo, vedere se gli piace, e poi dopo da lì decidere magari se recuperarsi gli arretrati, dato come vi ho detto siamo solo al numero 24, non è che ne siano usciti poi tantissimi, in fumetteria si trovano ancora, quindi una persona che magari si appassionasse adesso potrebbe comunque sempre recuperarle, come vi dicevo anche precedentemente. Perché parla del passato di Tex? Ecco, allora inizia, il fumetto inizia con Tex che sta raccontando quello che gli è successo in passato, sta raccontando una parte importante della sua storia, della sua vita, e quindi è per questo che vedremo appunto questi fatti, non perché ci sia stato uno sbalzo temporale, in qualche modo siamo tornati dietro nel tempo, semplicemente attraverso un racconto che farà, rivivrà praticamente un periodo diciamo della sua vita, ci farà vedere e scoprire che cosa è successo durante un periodo della sua vita, quando era adolescente, ecco. E quindi che cosa succede? Succede che in questa storia vedremo appunto, come vi dicevo, inizieremo a vedere quello che riguarda un po' le origini di Tex, quindi inizieremo a vedere la sua famiglia, cosa succederà a suo padre, com'era Tex prima di diventare quello che è poi, che è diventato, che poi abbiamo visto negli altri albi di questa testata che abbiamo letto, quindi torna molto indietro, fa vedere delle cose proprio che riguardano un passato lontano di questo personaggio, soprattutto lontano per chi legge la serie regolare, ecco. E quindi è molto interessante secondo me, ragazzi, non mi voglio spoilerare troppo, farà vedere comunque come viveva prima Tex, farà vedere cosa succede a suo padre, farà vedere la sua famiglia, farà vedere suo fratello, farà vedere come Tex deciderà di vendicarsi di determinate cose che succederanno, diciamo che è una bellissima storia, io la consiglio, vabbè ma ormai penso di essere diventata abbastanza ripetitiva quando parlo del Tex Wheeler, perché è una testata che mi piace talmente tanto che sinceramente non riesco a trovare una pecca in questa testata, cioè non ne riesco a trovare una, è veramente veramente fatta molto bene, e niente, dicevo, veramente fatta benissimo e quindi io ve la consiglio, come vi ho detto, è un albo anche secondo me giustissimo per cominciare, in più, allora, un'altra cosa che vi voglio dire, è che comunque non è finita qui la storia, quindi per quello anche vi consiglio, se voleste comprarlo e avvicinarvi alla serie, di comprarlo da questo numero anche, a parte che vi perdereste se no delle parti fondamentali, ma perché comunque questa storia sarà suddivisa in più albi, forse 5, se non ho capito male, e infatti si vede anche da come va a finire quest'albo, che comunque continuerà e ci saranno dei seguiti, quindi in questo si vede solo una parte di quello che succede a Tex in quel periodo, poi piano piano, mano a mano che andremo avanti, scopriremo tutto il resto, e quindi secondo me è un numero perfetto per cominciare, perché cominciare dal prossimo secondo me non avrebbe troppo senso, perché vi sareste persi una buona parte importante che troviamo appunto in quest'albo. Niente, faccio rivedere per un'ultima volta la copertina, che è veramente spettacolare, bellissima come sempre, e vi faccio anche vedere il retro che propone già la copertina del prossimo numero, così vedete già un po' come sarà il prossimo, dal titolo Resa dei Conti a White Horse. Allora, vi volevo leggere sinceramente cosa c'era scritto nell'anticipazione del prossimo, ma non ve lo leggo perché non vorrei che ci fosse qualche spoiler, e quindi mi dispiacerebbe spoilerarvi magari qualcosa del... magari che tramite quello capiste magari che cosa succede un po' in quest'albo, per chi magari appunto come dicevo non conoscesse... non conoscesse, vi faccio vedere intanto qualche altra tavola perché sono molto belle, non conoscesse appunto il passato di Tex, rischio magari qualche spoiler e vorrei evitare. Quindi mi limito a farvi vedere ancora qualche tavola di questa bellissima, bellissima serie. E niente ragazzi, oltre a dirvi che come sempre mi è piaciuto, che non vedo l'ora che esca il prossimo appunto per continuare questa storia e vedere come prosegue, io ripeto, sono come avrò detto anche in altri video, io non mi sono approcciata prestissimo a Tex, cioè lo sto leggendo da poco. E infatti questa cosa nonostante sapessi, perché mano a mano comunque leggendo magari un po' la testata regolare, un po' questo, un po' non so il classic Tex, piuttosto che o qualche ristampa, diciamo, sapevo già più o meno che cosa era successo, ok? Quindi diciamo, mi aspettavo già un qualcosa di quello che poi si è visto in quest'albo appunto. Però non lo sapevo con esattezza, non sapevo di preciso come fosse andata tutta la vicenda, quindi anche per me, che comunque qualche anno che ho ricominciato a leggere Tex, questa è stata una cosa nuova, vedere veramente degli eventi del suo passato, che non conoscevo, che sapevo soltanto così alla lontana, e invece qua li stanno riprendendo proprio per filo e per segno, spiegandoli molto bene. Quindi, ragazzi, veramente, veramente, come sempre, una delle testate più belle che c'è in edicola, secondo me, ora come ora. Quindi, niente, ve lo consiglio, e grazie per aver visto il video, vi aspetto nel prossimo. Ciao ragazzi!